L'Aggiunta Comunale di Castellabate sostiene l'istruzione con appositi bonus cultura. L'amministrazione Spinelli, in tal senso, ha emanato apposito atto di indirizzo al fine di adottare specificiche misure di agevolazione per la concessione di contributi economici a favore delle famiglie, così da incentivare la possibilità per i giovani di studiare nel proprio territorio. Si pensa ad esempio al sostegno, già attuato quest'anno, alle famiglie disagiate per il servizio mensa o per il trasporto scolastico. Inoltre si punta a rendere centrale il ruolo della sede distaccata di San Marco dell'Istituto Vico dei Vivo, con l'obiettivo di fronteggiare il calo delle iscrizioni che potrebbero intaccare il regolare svolgimento del servizio scolastico. Si intende destinare una borsa di studio per ogni neo iscritto da spendere in istruzione e cultura. Abbiamo il dovere di offrire dei punti di riferimento educativi per il mantenimento della nostra identità culturale, evitando la chiusura del Vico dei Vivo, una perdita che lederebbe il diritto allo studio di un comune sprovvisto di altri istituti superiori, dichiara il sindaco Costabile Spinelli, spiegando le motivazioni dell'iniziativa. Per scongiurare la perdita di indirizzi di studio fondamentali per questo territorio, associamo agli sforzi fatti in questi anni anche ulteriori incentivi con risorse del nostro bilancio, fornendo azioni concrete che sostengano le famiglie e frenino l'emoragia di iscrizioni nel nostro territorio.